Tornare a casa era l'entusiasmo del nostro pensiero. Testimonianze di Pietro Bagnis, detto Pierotu, nato a Pianche, Vinadio, classe 1890, contadino, e Caterina Arnaudo in Bagnis, nata a Pianche, Vinadio, classe 1890, contadina. Pietro Bagnis, come vivevamo nel 1900, di miseria. Non parliamo della miseria che io ho visto in mia gioventù, la fame che ho visto. Eravamo 14 in casa, nonno e nonna, zie e zie, si viveva su due vacche e un po' di capre e pecore. La polenta del frumentin, la polenta di grano saraceno, era il principale alimento. Una polenta verde, con un po' di latte scremato. Andava bene. Mio padre si toglieva la polenta dalla bocca per darcela. Mangiavamo tante castagne secche. D'inverno si viveva castagne. Usavamo il petrolio come luce, come illuminazione. Il petrolio e il sale erano gli unici prodotti che compravamo. Mio nonno mi raccontava di essere vissuto ancora peggio. Guardate i nostri vecchi, si sono utriti con le nocciole. Cose che vengono nella terra. Grosse come noci, nere, un po' dolci, ma che avevano solo il gusto della terra. Le facevano cuocere come le patate. Un po' anche mio padre ne ha ancora mangiate. Ne ho ancora assaggiate io. Nel secolo scorso c'era chi mangiava le serpi. Così ho sentito dire. Tagliavano la testa le serpi. Le condivano con un po' di sale rosso, di sale da pastorizia, e con le patate le serpi erano buone. Le donne filavano e cardavano la lana. A bagni di vinadio i tessitori fabbricavano il drap, una stoffa fortissima con la quale si facevano coperte, giacche, pantaloni. Le donne filavano la canapa per le camicie e le lenzuola. Gli asciugamani non sapevamo cosa fossero. Fino ai sette anni anche i maschi portavano la vesta. Le donne non sapevano che cosa fossero le culotte. Ho ancora portato i chambirun. Pelavano una vacca e dalla pelle non conciata, secca, ricavavano le suole. Un po' di stracci di lana o di sacco legati attorno al piede e la calzatura era completa. Anche gli zoccoli erano fabbricati dai nostri vecchi. Con due vacche c'era già un po' ricchi. Chi aveva una vacca e chi niente. C'erano delle famiglie numerose che vivevano su cinque o sei capre. L'oste e il tabaccaio erano un po' benestanti. Gli altri eravamo tutti sul medesimo grado di miseria. Non c'era lavoro, non c'era guadagno. Durante l'inverno chi non era scappato in Francia guadagnava qualche soldo a togliere la neve, dal mattino presto a sera tarda per 20 soldi. Una lira al giorno. Qui a Pianche vivevano 300 persone. Adesso siamo ancora 50. Le nostre case non erano come sono oggi, con le stanze. C'erano solo stalle e fienili. I vecchi dormivano le stalle su un palco di tavole e sotto c'erano le pecore, le vacche, i maiali. I giovani dormivano sui fienili. Io dormivo sul fienile, sempre, estate e inverno. Avevo dieci anni quando una notte è venuta una burrasca di neve. Al mattino, come mi sono svegliato, potevo fare così. Potevo mangiare la neve, tanta ne avevo sui fianchi, su di me. Ero avvolto dalla neve. Ho fatto tante di quelle miserie di fame. Dicevo a mia nonna. Nonna, non avete una crosta? Una crosta di pane nero, di segala. Lei era senza denti e mangiava solo il pane molle e le croste le metteva mezza accoccia. Va ancora a cercare due manciate di legna. Poi io guardo un po', mi diceva la nonna. Io partivo di corsa e tornavo con la legna. Allora lei affondava la mano nella saccoccia, fruguliava a lungo e finalmente tirava fuori una crosta sporca di terra e di polvere. Eh, era un biscotto, ma di quelli. La mortalità dei bambini era molto forte. Morivano tanto di polmonite. Le nostre medicine erano l'olio di ricino e la panada di pane di segala con latte e burro. Quando il dottore veniva, uno era già morto. Un'estate eravamo su al ciabotto, che ci vuole due ore da Pianche, verso il Monte Varcia. Io e mia sorella avevamo la tosse asinina. Allora mio padre, mia madre, i nonni, gli zii, tutti d'accordo dicono bisogna far cuocere un topo. Nella cantina dove tenevano i formaggi i topi c'erano e bei grossi. Hanno messo una trappola, hanno preso un bel topo, lo hanno pelato, pulito e lo hanno fatto cuocere in un po' di acqua. Dentro un piccolo paiolo di bronzo o di ghisa. Nonna, non è ancora cotto il topo? Chiedevamo di continuo io e mia sorella. Aspettate ancora un momento che cuoce bene, ci rispondeva la nonna. Il recipiente era piccolo. La nonna era affascendata in altre cose. Il brodo si è consumato quasi tutto. Sono rimasti due cucchiai di brodo, non di più. Abbiamo bevuto quel brodo e poi abbiamo mangiato il topo. Ve lo dico in verità di Dio, che non è una bugia che mi invento. Avevamo 7-8 anni e pur di togliersci la tosse che ci soffocava, pur di guarire, abbiamo bevuto il brodo e mangiato il topo. Caterina Bagnis. Noi invece non ne abbiamo fatta della fame. Eravamo undici tra fratelli e sorelle. Avevamo una vacca e qualche pecora e abbastanza terra, tante castagne e l'essiccatoio. Vedevamo le castagne a 40 soldi al mirigrammo. Ne sono morti dei miei fratelli e delle mie sorelle. Una sorella di un anno è morta di polmonite. Un fratello di due anni è morto di morbillo. Un fratello di quattro anni è morto di convulsioni. Un fratello di 17 anni e una sorella di 22 sono morti ancora di polmonite. Due fratelli sono morti nella guerra 15-18. Qui a Pianche non c'è mai stato tanto il discorso delle masche. Soltanto i nostri vecchi parlavano tanto dell'ess maisus. Qui c'era la drac, uno spirito folletto che faceva gli scherzi e poi spariva con una risata. I nostri vecchi di certe donne del paese magari dicevano quella lì l'è una maisia, ma noi non sapevamo. Una volta il prete di Sambuco mi ha detto che una certa donna di qui era una maisia, una indemoniata, ma in genere i preti erano contro queste cose. I preti non volevano sentire a parlare delle maghe benefiche, di quelle che tolgono il colpo di sole o che tagliano i vermi o che tolgono i dolori. Non vogliono riconoscere queste superiorità. Io tolgo il veleno. Come faccio non posso dirlo, se no perdo la capacità. Una volta una nostra manza è stata punta da uno sciame di vespe. Aveva una testa così e l'ho guarita. Un'altra volta ho guarito una donna di Sambuco. Tolgo anche il veleno delle vipere, ma soltanto alle bestie, alle persone non mi fido. Pietro Bagnis. La guerra 15-18? Quello che ho passato, signore. Già mio nonno mi aveva parlato tanto della guerra. Lui era della classe 1828. Delle volte, quando era nella stalla, io gli dicevo, nonno, raccontatemi un po' la storia della guerra. Avevo cinque o sei anni e credevo che fossero storie, favole. Mio nonno mi diceva, povero te, a Pastrengo, San Martino, Solferino, c'era la cavalleria ungherese, la più triste quando veniva alla carica. Faceva dei flagelli. Piangeva mentre raccontava. Come faccio io adesso che ripenso alla mia guerra? Il 25 maggio 1915 sono partito da Nizza per presentarmi soldato. Sono partito all'avventura, lasciando in Francia la moglie e il figlio Luigi, che aveva due anni. Mia moglie, con Luigi in braccio, è ancora venuto a salutarmi a Cuneo. Altro che piangere. Avevo la speranza di ritornare presto, ma sapevo che andavo in guerra e mi disperavo. Tra noi soldati dicevamo, andiamo al fronte. In breve tempo la vinciamo, facciamo presto e torniamo a casa. Non eravamo istruiti, ci facevamo delle illusioni. 15 giorni a Cuneo, poi subito al fronte con il 33esimo reggimento Fanteria e poi con il 74esimo. Noi non capivamo niente. Andavamo al comando come un gregge. Tu mi comandi e io obbedisco. siamo andati diretti a Oslavia. Là, nelle trincee, c'era un fango, una sporcizia. Si faceva tutto nella trincea. Pisciare, tutto. Gli austriaci erano a 120 metri e gridavano. Italiani, venite avanti se volete tabacco. Venite avanti se volete sigarette. E noi, ben zitti. Le prime cinque pagnotte non le ho assaggiate. Il pane veniva ancora dall'interno. Era marcio. La carne puzzava. Una puzza. Una schifosità. Eravamo nel fango e nei pidocchi. Ecco che cos'era la guerra. Poi siamo andati sul sabotino. Da Gorizia e da Monfalcone sparavano sulle nostre posizioni. Un mattino hanno incominciato a bombardare forte. Qui siamo perduti, ci siamo detti. Nella galleria c'erano gli ufficiali. Noi eravamo obbligati a restare in trincea. C'era uno di San Rocco di Bernezzo. Ci dice. Figlioli, siete contenti che recitiamo il rosario? Abbiamo detto il rosario mentre le bombe scoppiavano. Eeeh, quel giorno ne sono morti tanti. E sugli altipiani di Asiago, a cima 11, a cima 12, il 24 maggio 1916 ci siamo schierati per un'azione. Tutto il reggimento. È venuto il prete. Ci ha detto. Ragazzi, vi do la benedizione papale. Fra qualche minuto qualcuno di voi non sarà più vivo. Dieci minuti dopo scendevano già le barelle dei morti e dei feriti. E noi sempre avanti. Sempre su contro i plotoni dei tedeschi affiancati. Siamo rimasti 48 ore nella neve fino al ginocchio. Mezzi congelati. Eeeh, chi non ha fatto la guerra non lo crede. E quando mi hanno preso prigioniero, ferito sul campo di battaglia, sul Montebello di Asiago. La prima medicazione da parte dei tedeschi è stato un colpo con il calcio del fucile della schiena. Un austriaco mi ha puntato la baionetta contro la fronte e un altro mi ha dato il colpo nella schiena. Ero ferito a una gamba e a un braccio. Un mio compagno mi ha preso a spalle. Mi ha portato assieme agli altri feriti. Eeeh, mica per niente avevo pianto quando ero partito per la guerra. Sapevo che cos'era la guerra. Noi soldati, cosa capivamo? Ci hanno portati a combattere. Si combatteva senza sapere perché. si combatteva per vincere e tornare a casa. Tornare a casa era l'entusiasmo del nostro pensiero. Se abbiamo vinto è perché abbiamo avuto un eroismo noi soldati. In quella guerra ho conosciuto gli austriaci e i tedeschi. La crudeltà, l'inumanità di quel nemico era spaventosa. Li odio ancora adesso i tedeschi. Io che cosa avevo fatto a loro? Il tuo governo ti ha mandato contro di me. Il mio governo mi ha mandato contro di te. Era gente crudele, senza umanità. Da ferito mi hanno portato a Isbruck. Poi tre mesi e mezzo all'ospedale in Ungheria. Ci trattavano peggio dei cani. Infine mi hanno portato vicino a Vienna a lavorare alla ferrovia. Ricevevo qualche pacco da casa. Lenticchie, castagne secche, pane di segala arrostito. I pacchi arrivavano mezzi marci. Quando arrivavano? Il 4 novembre 1918, appena avuta la notizia dell'armistizio, abbiamo detto. Adesso comandiamo noi. Siamo partiti a piedi a Vienna. 240 km per arrivare a Trieste. Partiti in 41 e arrivati in 5. A Trieste ci hanno chiusi nel porto con i carabinieri di Sentinella e niente da mangiare. Eravamo migliaia e migliaia. Tutte le mattine passava l'autoambulanza a ramazzare i morti. Ce ne erano sempre 25 o 30.